Where Sigurds fly, there stand I, where Sigurds fly Mamma mia raga, mamma mia ma quanto è bello il lino del Brighton, ma quanta emozione in Premier League Ma che atmosfera c'è quando si gioca in Premier League, uno spettacolo puro E io con tanta emozione vi do il benvenuto al terzo episodio della carriera allenatore con il Brighton Non vedevo l'ora di registrarlo raga, sono sincero perché sono carico Sono carico, sono carico, sono carico, non vedo l'ora di proseguire E sono contento che vi stia piacendo questa carriera, ci divertiremo perché appunto io sono carico E spero lo siate anche voi Questa domenica però vi ho fatto uscire una challenge, quindi andatela a recuperare Non mercato challenge con il Bologna, si parte alla grande E adesso oggi si ricomincia e si prosegue con la carriera allenatore con il Brighton Perché abbiamo parecchie cose da fare Partiamo proprio da un commento, lo leggiamo insieme in questo momento Ed è il commento di Paolo, grazie mille per averlo lasciato Che è un commento legato a un aspetto tattico della nostra squadra Che avevo già preso in considerazione, vi dico la verità, degli scorsi episodi Paolo infatti fa riferimento a un possibile modulo da utilizzare O quando si è in difficoltà o comunque anche come modulo base Ovvero il 4-4-2 Se noi andassimo nella gestione della squadra è chiaro che potremmo Anzi creiamone subito un altro e potremmo utilizzarlo anche come ultra offensivo O come modulo offensivo Sa di fatto che parliamo proprio di un 4-4-2 basic No? Questa è sicuramente una buonissima idea Poi il fatto che Ferguson mi sia fisicato E Joe Pedro un pochettino più tecnico Un pochettino più rapido Mi fa impazzire È chiaro come però Se noi dovessimo utilizzare questo modulo Servirebbe almeno un altro attaccante Abbiamo già parlato della possibilità forse Di utilizzare magari a Dingra In questa posizione È chiaro che numericamente Dovessimo andare spesso con questo modulo Mancherebbe un attaccante Quindi sul mercato secondo me un altro puntero potrebbe servirmi Nello scorso video abbiamo anche esordito in Premier League Una bella vittoria netta a Luton Town Quest'oggi giocheremo Arriveremo fino alla pareta contro il West Ham Due partite in questo episodio Passiamo al calcio a mercato Perché ci dobbiamo rinforzare Serve secondo me ancora un centrocampista Serve un interazione di sinistra Ricordandosi poi dell'obiettivo Ragazzi dobbiamo acquistare un veterano Mi avete consigliato sotto nei commenti di acquistare un portiere veterano E io non saprei sinceramente su chi puntare Sotto nei commenti vi aspetto Un altro commento che ho letto molto spesso E vi lascio magari in sovraimpressione È quello che ha lasciato per esempio Alessandro Ma anche lo stesso Dami Ovvero quello di andare a fare un po' di scouting In Sud America Perché il Brighton è legato a questi giocatori I giocatori che vengono dalla Sud America Argentina, Ecuador, Colombia Facciamoci un salto Vediamo un attimo se tramite questo scouting Possiamo trovare qualcuno che può fare al caso nostro E partiamo proprio dall'Argentina Oh Sergio Romero Ma guardate che Sergio Romero potrebbe essere Romero? Guardate che Sergio Romero No, è argentino Sergio Romero potrebbe fare al caso nostro Vediamo un attimo anche sulla linea difensiva Che è lì dove abbiamo Dove abbiamo veramente bisogno Non c'è nessuno Bullaudi sulle tre quarti direi che Siamo a posto Ma nel Boca Non ci giocava un terzino sinistro Interessante Morris è andato al Boca Taborda Però anche Taborda è interessante Perché se non ricordo male Può fare anche l'attaccante Anche Zebaio è interessante Christian Medina Lo mettiamo a seguire Ottimo Per quanto riguarda gli attaccanti Invece abbiamo benedetto Cavani E Merentiel Niente di che Il terzino che mi ricordavo io era Valentin Barco Non mi ricordo come si chiama È andato al Tottenham Porca miseria Era lui Julio Soler Proviamo a metterlo ragazzi Proviamo a metterlo a seguire Perché possono diventare interessanti Questi giocatori Pedro della Vega Però non posso metterli tutti Menzo ti devi trattenere Segovia No, non è un Segovia no Manuelito Lanzini Palavecino Pablo Solari Noi li mettiamo a seguire Perché sì Per l'attacco però Qualche cosina di interessante Niente Diamo un'occhiata Anche nella sezione Conmebol Perché qui Di certo Del materiale Potrebbe esserci Oh Alvarado Madonna mia Alvarado Io lo amo Questo giocatore È fortissimo Nel frattempo Nel vedere questi giocatori Mi è venuto in mente Un possibile centrocampista centrale Ma che in realtà Potrei andare a prendere Tipo istantaneamente Perché è un giocatore Molto forte Vediamo in attacco Arezzo Arezzo raga Il nome di cui vi parlavo È Robertone ragazzi Che sì Forse potrebbe giocare Dovrebbe giocare un pochettino più avanzato Però ci dà tanta intensità E ci dà una soluzione Ulteriore Proprio nella costruzione Dell'azione Con Robertone Che potrebbe addirittura Inserirsi Perché il nostro centrocampo È vero che è Girato così Ma potrebbe anche girarsi così In fase di costruzione Tac E tac E questi due Se qui ci mettiamo Robertone Con Sudakov O Insiso Diventano Delle armi letali Ragazzi Sono gasatissimo Sono gasatissimo Avanziamo un attimo Qualche giorno Vediamo se arriva qualche offerta Se esce qualcuno Assolutamente sì Chi è lei? Mi scusi Graf Jonathan Graf Vola All'Augsburg Un milioncino Che ci entra nella sacca E noi siamo contenti Prima di andarci a giocare Per fare però La parida contro il Wolverhampton Io ho bisogno Di controllare una cosa Perché in tanti Mi hanno chiesto Menzo Ma lo riscattiamo Fati Eh ragazzi Cioè L'avete visto Il prezzo Vero Cioè nel senso 40 milioni Se io gli offrissi Tutto quello che ho Per me il Barcellona Rifiuterebbe Ne vogliono 44 Lo capite che in questo momento Io non posso riscattare Fati e soprattutto Non posso utilizzare Tutto il mio budget Per questo giocatore Che ci darà una grossa mano Quest'anno Ma che credo Il prossimo anno Non Non lo so ragazzi Cioè per me Veramente tanto Direi che possiamo Andarci a giocare Questa bella partita Ci mettiamo le cuffiette E le orecchie Perché ho voglia Di giocare Dopo Ci concentreremo Sul calcio mercato Grande Francesco Totti Come difensore centrale Potremmo andare sempre Con questo Modulo Però vorrei provare A cambiare qualcosa Perché Vorrei provare Insiso E Pedro Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza Brighton Seconda partita Di questa Premier League Fuori casa Dobbiamo sicuramente Creare Nel nostro stadio Un contesto positivo Per noi Ma non dobbiamo Farci prendere Dalla Ma non ci sono Non ci sono gli intermezzi Dicevo Non dobbiamo farci Prendere dal panico Quando giochiamo fuori casa Perché abbiamo Tutte le possibilità Per fare bene Quest'anno Io ho una bella Europa Me la vorrei Riportare a casa Vorrei riconfermarmi Da quel punto di vista È uno dei miei obiettivi Devo cambiare i numeri Se avete qualche consiglio Fatemelo sapere Ho letto di Insiso Mamma mia Dank Mamma mia Dank Ma cosa sei Una diga Mi toma Ansufati Passa dal centro Ciao Pedro Mi toma Per Insiso Killman Ci mette Il Il membro Cosa ha messo Le palle ci ha messo Pazzacci Killman Mi toma Insiso Ci può riprovare Questa volta Col tiro a giro Bentley Lo sappiamo Che è insiso Un buon piede Ancora Dank Lui non ti fa passare Cugna Dank Ha preso Anche Questa Ha preso Anche Questa Attenzione all'Humpty Possiamo spingere adesso su quella fascia Solitamente spingiamo dalle parti di Stupignan Però l'Humpty Ha un'ottima corsa L'Humpty Può accelerare La mette al centro Dove Ma perché non tirate da prima ragazzi Mi scusi Primo tempo che finisce qui È risultato un po' bugiardo Perché noi stiamo spingendo Molto E In questa fase Proprio La formazione di cui vi parlavo prima Secondo me Potrebbe fare Al caso nostro Io farei proprio così Magari Insiso Lo abbassiamo un po' Adatti Così ragazzi Ma guarda che belle queste scene Queste scene sono bellissime Mentre gestisco la formazione Sono veramente splendide Bravissimo Daoud a recuperare il pallone Daoud mi sta Mi sta impressionando Attenzione Insiso Perché cerca un varco Si fa vedere Adesso mi toma Di nuovo Palla per Insiso I due si capiscono I due si intendono Insiso La mette nel mezzo Arriva Su Fati Con un gran gol Vantaggio Brighton Al 55esimo Ma che bella La triangolazione Insiso Mi toma Che spettacolo Questo Brighton Mamma mia Bella 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 Ma poi che palla Di Insiso E che gol Dian Su Fati Che tra l'altro Ve lo dico Lo stavo per togliere Raga ho bisogno Di fare i cambi Siamo stanchi Siamo un po' Sulle gambe E il Wolverhampton Inizia a spingere Occhio raga Verbruggen La lascia lì Pareggio Wolverhampton Oh mamma mia No ragazzi Così no eh Con questi portieri Così no eh Dai Forza Voglio rivedere Perché è stata una roba brutta Qui purtroppo Siamo passati Il tiro era centrale E poi l'uscita dopo Questa uscita qui A spalancargli C'è andata di schiena Verbruggen Madre mia Allora Gestione squadra Andiamo con i cambi Insiso mi è stanco Andiamo con Ferguson Fuori Fati Andiamo con Adingra Forza Ferguson Eccolo Subito servito Totti la mette fuori Ci siamo ancora con Joe Pedro Da Hood Ferguson Si gira Il palo di Ivan Ferguson Occasione bravo Brighton Cinque minuti di fuoco Più recupero Occhio perché Wolverhampton Non molla Il recupero è come L'anno scorso Ovvero scandaloso Tre minuti Attenzione però Siamo perché in tre minuti Possiamo prenderlo pure noi Il gol E invece no Weltman La rispedisce in avanti Joe Pedro E' una palla per Ferguson 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 a testa bassa Ferguson Ferguson a testa bassa Ferguson Per Joe Pedro Pedro Joe Pedro 2 a 1 E' giusto così Il Brighton E' di nuovo avanti Andiamo Si gode Altri Tre Punti Per i nostri Seagulls Ci siamo signori Ci siamo Volevo vedere un attimo I dati partita Più che altro Perché Nello scorso mezzo Siamo riusciti Ad avere il possesso Palla Maggiore Quest'oggi Non è stata così Non è stato così Purtroppo Prestazioni Ecco Chi è migliore in campo Joe Pedro Ferguson Ed è insiso Subito dopo Reso conto finale Su Lucas Robertone Signore un 79 20 milioni per lui Me lo vedo molto molto bene Ma sapete che Romero quasi quasi Me lo prendo subito Instant Ma si la clausola Devo pagare 880 Va bene Abbiamo trovato un accordo Con il Boca Per il nostro portiere Veterano Se non mi dà L'obiettivo veterano Con Romero 36enne Perdo la cabezas Ah però Dello stipendio Le mortacci tua Eee E chi stai No dai Vabbè Ma siete ridicoli Per quanto riguarda Il centrocampo Sapete ragazzi Che Robertone Secondo me È la scelta giusta Purtroppo Sare andato su Maxim Lopez Ma mi è in prestito Attualmente Il Robertone qua Mi ha Questi dati Sì magari Difensivamente Non è un gran cam Ma non mi interessa Molto eh Passato corto 80 Passato lungo 78 L'importante è che ci sia Della qualità Abbinata Della quantità Abbiamo 35 milioni Vogliono 28 milioni Ma mi sembra una cifra Nettamente Esagerata 22 milioni e mezzo Però ci posso stare E loro S'abbassano a 24 E a me va bene così Però 22 e 8 Signore abbiamo preso Robert One Abbiamo preso Robert One Ma Roberto De Zerbi Che accoglie Robertone Quanto è bello Ragazzi 5 anni di contratto Fino ai 31 Fino ai 31 anni Resti con noi Occhio qui al contratto Perché quest'anno Sono belli cattivi 38 K per te Robertone No vabbè ragazzi Ma stiamo scherzando Ce l'abbiamo il tempo Per prenderlo Vero? Ok sì Ce l'abbiamo Memma mia Memma mia Memma mia Offerta per il prestito Baleba L'Alnassr Non c'è niente da fare Baleba possiamo provare A darlo in prestito Magari cresce Nel caso Proviamo Proviamo L'Alnassr Che brutta squadra Per darlo in prestito Ma va bene lo stesso Poi Arriva Altro Arriva Altro Perché arriva Un'offerta Dalla Stonevilla Per Ferguson Che ovviamente Rifiuto Un'offerta Per i Mari Samuels Da parte Dell'Ereven Che accetto E un'offerta Di prestito Per Van Eke Da parte Del Nottingham Forest Non lo so Forse per il momento Rifiuto questa offerta Perché vorrei Concentrarmi Su altre zone Del campo Accordo Per il prestito Nel frattempo Per Baleba Glielo mandiamo E abbiamo anche Due chat giocatori Ci penserò Per quanto riguarda Joe Pedro Che vuole giocare Partita eccezionale Bravo Insiso Mi è arrivato Poi un resoconto Molto importante Qui abbiamo Qui abbiamo Barco Che si è appena Trasferito Al Tottenham Però Potremmo Provare a chiederlo In prestito Per risparmiare Qualcosina E instaurare Un buon rapporto Con il Tottenham Perché no Per quest'anno Puntiamo su Stupignan Poi Barco Lo faremo Giocare In modo da Farlo crescere Potrebbe diventare Poi nel futuro Il nostro Titolare Volevo vedere Le caratteristiche Talento naturale Tecnico E quando uno è tecnico Ragazzi Fa per noi Per carità Questi Sono più forti Non c'è dubbio Però ci prenderebbero Molti più soldi E vogliamo Spenderli un po' di più Sul centrocampista E forse Su un altro attaccante Quindi proviamo a vedere Se il Tottenham Ce lo chiede Ce lo lascia in prestito Ce lo lascia in prestito Non pensavo Godo tantissimo Due anni Un anno Va bene Posto ecoglu Io ci sto Accetto Accetto Signori Va benissimo Ora Serve però Che Barco Accetti No per Robertoni Non siamo ancora pronti E dunque Andiamo in campo A giocarci questa pareta Contro West Ham Che ha fatto due pareggi Nelle prime Due Vediamo un attimo Come siamo messi Anche il West Ham Standard Questa è la loro formazione Ma la formazione del West Ham Ragazzi La conosciamo abbondantemente Andiamo con l'insiso Dietro Ferguson Sudakov Ce lo portiamo dietro E la linea difensiva Io per il momento Non me la sento Proprio di cambiarla Ragazzi Non ce la posso fare Quindi direi che possiamo Andare in campo così Per questo terzo match Di Premier League Contro West Ham Hammers Anzi Seagulls Contro Hammers Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza ovviamente Brighton Che bello ragazzi Mi sembra veramente Di essere lì Per queste prime partite Ve lo Ve lo lascio guardare Inquadrato Mitoma Il protagonista Sempre l'uomo più atteso Vale VFR Ecco Questo è il primo Il primo volo Sulla Menzer Airlines March Ma perché tutti che volano Tutti con le rovesciate Qui volevo un bel tiro al volo Alla Totò di Natale Occhio a Inks È passato in qualche modo Scusate ma ha tirato una legna Che non mi aspettavo Guardatevi Guardatevi VFR Si viene a prendere il pallone E poi c'è Insiso Ma che brutta palla Che ho fatto Però Si sta creando esattamente Quell'idea tattica Di cui vi parlavo prima E quindi VFR È il primo che viene incontro A prendersi il pallone Con Daoud E Il nostro trequartista C'è la miseria Il nostro trequartista Che giocano quasi Da mezz'ali avanzate Qui Alvarez Ci faceva Alvarez Non lo so Ma bravissimo Verbruggen Inks Il destro Verbruggen Che si fa trovare pronto March Bravo Insiso che si fa trovare pronto Si fa Vedere L'amte saluga il pallone Ferguson Per Mitoma Occasionissima Reola Entrambi i portieri Stanno facendo una grande partita Ancora Mitoma di testa Non è qua dallo specchio Bravo Mitoma anche a recuperare il pallone Poi Stupignan Bruttissima Bruttissima Palla persa Bowen entra in area Bowen Porta in vantaggio Il West Ham In vantaggio Gli ospiti Porca miseria Sono forti raga Qui devo ammettere Che gliel'abbiamo regalata a noi Sia Inasio Che Stupignan Non benissimo Poi Bowen Un grande 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 piazzato Proviamo a subito Ritornare Al modulo di cui vi parlavo Prima Con Mitoma alzato Fuori march Dentro Fati E poi testiamo ancora un attimo L'accoppiata E insiso Ferguson L'amte Subito chiamato in causa Ansu Fati Ferguson L'amte Ansu Fati Al centro insiso Di prima te l'ho chiamata La palla per Chi era Mitoma o Da Hood Non lo so Uno dei due Emerson sbaglia tutto Ma sbagliamo di nuovo anche noi La palla resta lì In qualche modo Ci salviamo E Stupignan Non riusciamo a tenerla Non riusciamo a Concretizzare Bravo VFR Gran palla recuperata No ti prego No Bravo Chiunque Chiunque fosse Pedro Palo Ma non è possibile Ma non è possibile La teniamo viva Ancora Mitoma Sulle palle Da Reola Non ci posso Credere Non ci posso Credere Dentro su Udakov E lo buttiamo qui E' completamente A caso Buona No 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 Anzu Ma come minchia hai fatto a sbagliarla Dobbiamo recuperarla istantaneamente raga Subito Subito Lampday Bravo Dammi un giorno Altro giocatore diverso da Lampday però Se l'è allungata Se l'è allungata Se l'è allungata The last dance Sudakov Da Hood Sudakov Ancora Sudakov Attenzione Mitoma E' finito il recupero ormai Sudakov Sudakov Mario là Ormai il recupero è concluso O segniamo adesso O abbiamo perso Abbiamo perso Mamma mia però Che bella partita Oh raga Ve lo posso dimmi E' sembrata una partita vera Proprio di quelle che Di quelle che te le devi guadagnare Bella Mi sono divertito Nonostante la sconfitta Mi sono super super divertito Non la meritavamo Non la meritavamo questa sconfitta Però Ragazzi Che può capitare Può capitare Non ho visto super Attento Insiso Quest'oggi Però Può capitare Più che sotto tono E' stato bravo il West Ham Dobbiamo essere Sinceri ragazzi Ci servirà di lezione Il West Ham non è una squadra Più forte di noi Abbiamo giocato bene Ma non è bastato Sono d'accordo con Robertone Anche perché Sono io Che Rispondo per lui Quindi non è che Ci sia Molto da dire Stop Trattativa di trasferimento I Mari Samuels Va bene Lo cazzeremo il prima possibile E Attenzione perché arriva Il talento Ex Boca Junior In prestito dal Tottenham Valentin Barco Il terzino sinistro Che potrà far rifiatare E Stupignan Un terzino sinistro Giovane Con tanta qualità Ragazzi Che spinge Come un drago Terzino sinistro tecnico In prestito con diritto Di riscatto dal Tottenham Poi valuteremo Chiaramente Se Riscattarlo Attenzione perché arrivano Anche tanti resoconti Che prenderemo in considerazione Magari nel prossimo episodio Io voglio chiudere Preso in prestito Barco Arrivano anche delle offerte Di avere il trasferimento Il Chelsea vuole Weltman Per João Pedro Non lo prenderà in considerazione Però il Chelsea Che vuole Weltman Come facciamo a A rifiutare Un'offerta del genere Non ho in questo momento Terzini destri Perché Non era nei miei piani Vendere Vendere Weltman Quindi Possiamo parlare Ah Sugawara Beh Sugawara Ci starebbe Sugawara ci starebbe Tanto come sostituto Di Weltman Giapponese Così fa Fa la combricola Con Non è più forte Però Se avete altri nomi Fatemeli sapere Tanto adesso andiamo A chiudere l'episodio Ragazzi Andiamo a vedere subito Valentin Valentin Barco 16 settimane Gli aumentiamo il piede debole Mancino Perfetto Gli aumentiamo anche il passaggio corto La visione Ottimo Ha già un ottimo dribbling Tanta roba Tanta roba questo acquisto Ragazzi Farà secondo me divertire A questo punto Vediamo se riusciamo a chiudere Il Robertone In questo episodio Ha però Zambrano 19 anni 70 di overall Allora questo Alcaraz Fa schifo Qui vediamo tutti i giocatori Che abbiamo messo a seguire Nel nostro scouting Asprilla Non era malissimo Però Insomma Prestiani Madonna santa ragazzi Anche che Verri Non è male De La Vega Soler Non bene Ma È uno scouting Che è abbastanza positivo Mi verrebbe da dire Molti giocatori Potremmo prenderli Per darli in prestito Si potrebbe puntare A fare questo A fare questo lavoro Zambrano però Come primo sostituto De Weyfer Non mi dispiace Bei giocatori Davvero bei giocatori Parliamone Parliamone insieme ragazzi Sotto nei commenti Cosa facciamo Con questi boys Con questi regaz Ora se puede Ora se puede Proviamo ad abbassare Ulteriormente il prezzo Rispetto a A quello che avevamo Pagato prima Vediamo cosa dice L'Almeria 26 milioni Però attenzione Perché hanno Accettato la clausola Quindi proviamo A restare sui 20 milioni e mezzo Con la clausola 5% Ok Forse possiamo Trovare un accordo Perché se io ti alzo Leggermente la clausola All'8 E facessi 21 milioni e mezzo Loro accetterebbero Dai Roberto Dai Roberto Dai Roberto Quanto ti offro Di ingaggio adesso Però mi scusi Fammi un'offerta Fammi un'offerta Fammi un'offerta Fammi un'offerta Va bene Se anche gli offro Qualcosina in più 55 mila Ne vuole 62 Ah va bene Preso Robertone Finalmente Robertone Alla corte di Robertone De Zerbi Va bene così Apri le ste porte Roberto Apri le Lucas Ci sei Sei con noi adesso Acquista Due giocatori cruciali E ottieni un profitto Di 50 milioni Nella stessa stagione Obiettivo completato Per la prima metà Il profitto di 50 milioni Non credo Di essere riuscito a farlo Per il momento Abbiamo guadagnato 68 milioni Però Con magari Un'altra cessione Potremmo tranquillamente Essere In linea Dobbiamo Dobbiamo fare un bel profitto Quindi Forse se dovessimo Vendere Veltman Andare a prendere Un terzino Che ci fa risparmiare Qualche soldo È la scelta giusta Andiamo a vedere Subito Robertone E poi Chiudiamo questo video Perché ragazzi Devo ammettere È stato parecchio Parecchio intenso Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo acquisto Tanta roba Ma per il momento Miglioriamolo qui Poi a migliorarlo Difensivamente Ci pensiamo Questa per ora È la nostra formazione Manca Romero Il prossimo episodio Valuteremo il terzino Di destra E poi un altro Acquisto extra Un altro paio di acquisti extra Magari per il futuro Spero ovviamente Che questo episodio Vi sia piaciuto Chiudiamo semplicemente Con la visione Della classifica Perché in questo momento Noi siamo Quarti Dietro Ad Arsenal Newcastle Manchester City Siamo a 6 punti Non male Direi che possiamo Vederci nel prossimo episodio Un saluto da mezza Alla prossima Ciao a tutti ragazzi